CGL e CISL e Will chiedono all'INAIL di rendere note ai contagiati di Covid-19 sul lavoro le modalità per usufruire delle prestazioni. Dopo più di due settimane, infatti, dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia, non sono ancora disponibili le istruzioni pratiche e le indicazioni per il riconoscimento delle prestazioni previste. I sindacati chiedono all'Istituto di adempiere velocemente i suoi compiti, evitando situazioni di confusione e difficoltà.